Lavoratori protagonisti è lo slogan scelto dalla CGL di Taranto per presentare le iniziative organizzate per il 1 maggio 2023, festa del lavoro. Dalla 30 aprile al 5 maggio, il sindacato ionico ricorderà le battaglie dei lavoratori, ma anche dei precari e di chi è rimasto senza impiego, portando musica e teatro in alcuni luoghi simbolici, come spiega il segretario provinciale Giovanni d'Arcangelo. Il 30 aprile sono stati scelti i giardinetti dell'ospedale Santissima Annunziata con Music Soccorso e il quartiere Tamburi con uno spettacolo del Teatro Crest. Lunedì 1 maggio la violoncellista Arianna Di Ponzio suonerà davanti ai cancelli delle fabbriche chiuse. Dalla 3 al 5, FLC e FIOM raccoglieranno firme contro l'autonomia differenziata davanti all'Exilva. Prendiamo nuovamente atto, aggiorniamo il dato della perdita dei posti di lavoro, delle difficoltà che ci sono all'interno del lavoro e non solo, anche all'interno del comparto sanitario, all'interno dei quartieri un po' più periferici della città. Per noi ogni azione ha una radice, il lavoro e i lavoratori. Questo primo maggio noi lo vogliamo portare all'interno di quei luoghi dove c'è sofferenza, all'interno di quei luoghi dove c'è bisogno ancora di primo maggio, anzi dove c'è bisogno prevalentemente di primo maggio. Quindi mi riferisco, andremo di fronte a un ospedale, andremo all'interno di un quartiere periferico, all'interno delle fabbriche di smesse. Il nostro primo maggio è questo, cercare ancora una volta di mettere in evidenza quelle che sono le emergenze sociali del territorio.